A suon di hashtag Stop Giubileo e No Giubileo il Movimento dei Cittadini si è riunito a Piazza Montecitorio per urlare il proprio dissenso nei confronti dell'anno santo straordinario che partirà il prossimo 8 dicembre. La città non è pronta, dicono in coro. Una manifestazione pacifica per chiedere l'annullamento, lo slittamento del grande evento, un sentimento che forse accomuna tanti ma cui il Movimento Cittadini ha avuto il coraggio di dar voce. La capitale non è pronta dal punto di vista organizzativo, abbiamo 32 cantieri non partiti, solo 8 ne sono partiti, abbiamo l'Atac, l'Ama, i vigili urbani non attrezzati adeguatamente e abbiamo anche la mutazione di un evento straordinario come quello degli attentati di Parigi. Quindi anche dal punto di vista del clima di terrore che si respira Roma secondo noi non è pronta e quindi chiediamo che il Giubileo venga annullato o spostato a tempi migliori. O quantomeno fatto un Giubileo in maniera diversa, ognuno cercare di non far arrivare tutti i milioni di pellegrini che si prevedono, fare ognuno una preghiera, una misericordia all'interno delle proprie parrocchie, nei propri posti, onde evitare poi quello che tutti temiamo, che sono ulteriori attentati. Non è la paura della guerra o del terrorista, anche perché il rischio ce l'abbiamo sempre e continuamente, perché purtroppo esistono persone che non stanno bene di mente, perché ci sono delle patologie e quindi al di là dell'ISIS sono rischi continui. Quindi appunto non è un dar la vinta, perché io questa cosa l'avrei detta anche prima delle torri gemelle, non so come dire.